ehi la la ecco te qua su questa pagina qua troverai tutti i video tutorial e le valutazioni degli attrezzi della decatron sotto in basso se scorri vedrai quali attrezzature ho testato per la decatron e andrai a vedere anche dei mini tutorial sugli esercizi da poter fare ovviamente sull'attrezzo indicato quindi cosa stai aspettando scorri in basso e vai direttamente ai video tutorial e se ti va e ti piace l'attrezzo tranquillamente clicca sul link e vai direttamente alla pagina dell'acquisto ti ringrazio e iscriviti a questo canale bye bye